Abbiamo da farvi vedere la seconda gara di Rayman 2. La seconda gara di Rayman 2, sempre con Lila Fata, è diversa da quella precedente, il Sentiero della Vita, perché questo livello, il tempo della gara, si intitola il Tour de Force. Qui al Tour de Force potete stare molto attenti a non cadere nell'acqua. Ricordatevi sempre di raccogliere le piattaforme e farvi raccogliere il tempo. Poi se vi capitano le foglie di ninfea, saltateci per evitare di cadere in acqua, perché in queste acque è sconsigliato nuotare. E poi ricordatevi che in questo livello vanno raccolti 40 lum gialli. Dovete fare attenzione quando scade il tempo, perché quando il timer diventa rosso, significa che il tempo scade e avete perso, ma se riuscirete ad arrivare in fondo avete vinto. Time Run Racer significa il tempo della gara, della corsa. Eccole le foglie di ninfea che vi dicevo prima. Queste foglie di ninfea servono per le rane, tutte le volte che sono nello stagno. Comunque vediamo di fare in fretta. Resta lì ferma ad aspettare, lì la fata. Sta aspettando che Rayman venga. Non vuole lasciarlo da solo. Corre velocissima lì la fata e fa dei salti incredibili. Io non lo sapevo che Rayman 2 aveva queste due gare. Il sentiero della vita e il tour de force. E abbiamo finito anche questa seconda gara. Non so che dirvi ragazzi, comunque io vi dico che mi è piaciuta tanto. Che belle sono queste farfalle. Ma quelli sono i bambini di Globox che hanno le bandiere con il disegno di Rayman.